bagni a cavallo due ruote e una zanetta la conclusione del lavoro di oggi ci ha portato alla realizzazione di questo video la cosa che ci ha colpito di più sono state le persone protagonisti per la maggior parte dell'installazione le persone in bicicletta ci hanno accompagnato nella nostra passeggiata riscaldando i nostri cuori il signore con il cappello e gli occhiali che sembrava suonare subitamente il campanello per poter passare un altro dall'aspetto un po' scorputico ma dal viso tondo e dalla pedalata lenta e affattivata una donna con scarpe sgargianti e con il tacco il ragazzo di colore con il cappello di lana con un'energia pedalata si è parlato di gesti poche parole ed ecco qua i volti di bagni a cavallo il presidente andre ghetti dell'associazione abbondanza lucido e aperto capelli bianchi e freddi pelle morbida aria fiera orgogliosa movimenti lenti misurati di mani braccia che accompagnavano le parole abbiamo incontrato mauristio che ci ha accolti nella splendida cornice di piastanova contagiandoci con la sua risata comportandosi come un perfetto padrone in casa e dimostrandosi a proprio agio al centro della nostra attenzione proseguendo la nostra passeggiata il piccolo degli amori ha fatto rinascere gli subiti sentimenti amorosi amari il quale ha dedicato agli alzori e bagnatavallesi una toccante serenata grazie a tutti